Dopo il lockdown tornano in presenza anche i tradizionali pranzi di Natale organizzati dalla comunità di Sant'Egidio. In Italia un milione di persone sono in povertà assoluta a causa del Covid. Giovanni Battista Brunori. Dormivo sotto la metropolitana, ho conosciuto una persona della comunità, portato i pasti, abbiamo fatto inizialmente un po' d'amicizia, poi alla fine mi ha detto ma perché non vieni, non frequenti la nostra mensa? Perché io non sapevo che c'era la mensa. Ho cominciato a frequentare la mensa, mi sono trovato bene perché mi sono sentito un'altra volta a casa. Una casa l'ha trovata davvero Sergio Calvello per dieci anni senza fissa dimora. Traumatizzato dalla morte improvvisa dei genitori, aveva lasciato un buon lavoro e vagato all'estero prima di incontrare la comunità che lo ha ospitato e aiutato a reinserirsi nella società. Sono un milione gli italiani finiti sotto la soglia della povertà assoluta nel 2020 causa pandemia. famiglie monoreddito, lavoratori precari, anziani. Solo a Roma sono 900 e senza tetto ospitati in vari progetti dalla comunità di Sant'Egidio che ha presentato la guida dove mangiare, dormire, lavarsi. Ha lanciato la campagna aggiungi un posto a tavola per donare un pranzo di Natale a chi ha bisogno e ha lanciato un appello alla politica. Intervenire sui costi della vita, sul costo della vita, ma anche di mettere a disposizione una certa semplificazione per tutti coloro che lavorano a fianco delle persone più vulnerabili e che vivono in precarietà per permetterci di aiutarli al meglio e rapidamente. Grazie.